Non si può scedere qua? No, non si può scegliere qua. Chiamiamo Savana. La Savana è fattoria. La porta non mi fece. Non si dimentica. Non si dimentica. Ah, Whisky e mango. Le cinfante sono queste. Sono sempre le tiglie. Non mangiare un po' qui. Whisky e mango si chiamano. Whisky? Mango. Ma dov'è? Da lato a lato. Il pianeta delle cible. Ti ricordi? Non si vede però. Oh no! Ho visto la loro casa. Lì c'è un altro. E là sopra Leo? Lì c'è un altro Leo. Sono Whisky e mango. E dov'è? Guarda mango. 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 Ciao mango. Ciao mango. Vieni qua. Whisky. Vieni qua. Guarda davanti. Guarda che è grande. È seduto. Ah. Ah. Whisky. Mango. Whisky. C'è il mio fratello. Whisky. C'è il mio fratello. C'è il mio fratello. C'è il mio fratello. C'è il mio fratello. E' vecchio. Sì. C'è il mio fratello. C'è il mio fratello. C'è il mio fratello. C'è il mio fratello. Adesso è proprio il basso. Mamma. ah le scimmie ci sono quelle bianche piccoline guarda non vedo niente è arrabbiato manco per questo la facciai arrabbiato poco fa ogni tanto gratta questa è una scimmia interina ciao pimmio guarda dove giro qua no 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 è sua non c'è un compagno ma questo come sta questo come sta mamma 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 l'ho visto è in questo guarda mamma si amore guarda adesso sono bene il cielo no flash le macchine fotografiche quest'anno Stage hai visto che bella? il cebo dai cornetti un altro pigno cornetti dove è messa? qua guarda è nascosto uccelli del pessimo carattere sono cattivi sono cattivi non è cattivi ma deve essere grande Girolamo deve fare così grazie contro la testa di Girolamo si ma sei su su di si si su proprio ma secondo te perché si chiamano tu? quando hanno paura e si nascondono si svolta la testa sotto la sabbia e si nascondono con la testa sotto la sabbia guarda ciao 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 ma in questa cosa non ce l'hai tu la possibilità di mettere tutti gli obiettivi ma fai come chiamano ma tu che dici che se sono contenta di stare da così o per un grande in Africa a correre da fare a rischio di stare da così cosa madre? incinta no no è la cosiddetta pancia scaccavate no no è normale pancia come suggerito non ci sono domenica mamma mi dammi la mascherina un minuto ma dammi la mascherina un minuto no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vuoi fare la pipì? Fa caldo. È vero? Fa caldo. Ah, le ane, te le ho lì. Le capre egiziane. No, perché c'è il cibo, Leonardo. E' un cibo. Ma non mi ha ragione, perché le ane sono quelle male. Che vengono qui, come? Le ane sono le veste in mano. No, qui non si è le veste. Qui, qui. E' un cibo. E' un cibo. E' un cibo. E' un cibo. Qui, quella è padavano. Chi sei romagnoli? È italiano. Chi sa anche che è italiano? E' bene rapp Gentile. Chi sei grigia padavano? che cosa sono? ciao 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 ancora andiamo di là queste sono le gazzelle? non sono le gazzelle sono le gazzelle che aveva? che aveva? che aveva? che aveva? la fattoria c'è ma cos'è? ma perché? ah è la capra d'antaro la capra d'antaro la capra d'antaro la capra d'antaro l'acqua d'antaro Sì, ma c'è un po' di schiena tutto quello che fa, mamma mia. Sì, arrivo. Vedi questa ce la fa qua? Sì. Questa qua? Sì. Questa bianca. Sì. Questa qua è la lana preciata. E poi noi abbiamo le belle di lana preciata. Bella. Con queste capole. Guarda il corno già, vedi. Tu non ce l'ha ammasso. E questa è la carna. Guarda. Il giallo, guarda. Guarda il giallo, dico. Il giallo che alla mattina fa coccode. Sì. Sì. Non senta? Lo sentite? Sì. 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 Questo qua è zoggra. Zoggra, si mangia? No, non fa l'odore, questo è il fiore del limone, dell'arancia. Ehi, no, ma perché te ne vai? Ecco, fai vedere un cucchiaio qua, e gli faccio vedere una cosa. Ehi, no, ma perché te ne vai?